Un deputato del PDL è stato colto in fragrante da diversi scatti che lo ritraggono a guardare un sito a luci rosse attraverso un iPad. Il deputato, come si vede dalle foto, ha guardato a lungo immagini e profili di due escort, Dolly e Daisy. Le immagini saranno pubblicate sul giornale oggi nella giornata del 2 febbraio. Il settimanale ricorda il caso di Paul McClay, ministro australiano, che beccato a guardare film hard sul PC, si dimese dal Parlamento.